La rinascita di San Ginesio, comune del Maceratese e duramente colpito dal sisma del 2016, riparte da qui, dalla sua bellissima cinta muraria che svela un panorama mozzafiato sulle marche a 360 gradi. Non a caso negli anni è stata ribattezzata il Balcone dei Sibillini. Dopo il terremoto il paese, che aveva nel turismo la principale risorsa, non aveva più chiese, musei o teatri da mostrare ai visitatori e così ha voluto puntare sulla sua eccellenza i paesaggi. Abbiamo avuto la fortuna di avere la disponibilità degli alpini, dell'Associazione Nazionale dei Alpini della Lombardia. Sono stati con noi 15 giorni, hanno lavorato in maniera feroce ed hanno riaperto quasi totalmente la cinta muraria. Questo che cosa significa? Significa per noi, primo, poter valutare ancora meglio il livello del danno che potrebbe essere stato causato dal terremoto, ma poi dare motivo alle persone di venire a San Ginesio perché effettivamente il Balcone dei Sibillini in questo caso torna ad essere un balcone. Inoltre San Ginesio ha preso un contributo per realizzare un percorso ciclopedonale di 4 chilometri lungo le mura. Noi vorremmo comunque entrare come comune nel club delle città murate, anche perché, lo ricordo, San Ginesio è il comune pilota della ricostruzione per quanto riguarda le città creative dell'UNESCO. Noi siamo stati ospiti nel padiglione rinasco di Fabriano ed abbiamo rappresentato con il decalogo, con la carta di San Ginesio, quali sono i punti principali per poter ripartire, ricostruire e ridare una speranza, non come era prima, ma addirittura in maniera migliore. Per quello che riguarda invece la collegiata La Pieve di San Ginesio, i lavori procedono in maniera spedita. Abbiamo avuto rassicurazione da parte del funzionario, del dirigente del ministero, che sarà tra le prime ad essere oggetto di intervento. Il progetto esecutivo è quasi pronto. Insieme alle chiese di San Benedetto di Norcia e Accumuli, infatti, è stata inserita tra i simboli della ricostruzione, per cui si tratta di una opera prioritaria. Il sindaco ha chiesto anche un finanziamento che con ogni probabilità otterrà per inserire un ascensore nella Torre Civica, in modo da offrire ai visitatori la possibilità di vedere tutte le marche. Una prospettiva di rinascita a tre anni da un terremoto che ha cambiato per sempre il corso della storia di un paese.